Salve a tutti da Ingeviatibus. Per tante persone una vacanza da sogno è quella alle Hawaii. Ma cosa sono le Hawaii? È un arcipelago composto da 137 fra isole, isolotti e adotti, anche se poi le isole principali sono 8, tra quelle troviamo per esempio Oahu, Molokai, le Big Island, solo per citarne alcune. Ci si chiede spesso quanto tempo occorra per arrivare alle Hawaii. Ecco, in realtà per visitare bene un'isola, magari anche dare un'occhiata a un'altra isola, può bastare anche una settimana. Magari non di più, se lo poi si rischia di disperdere insomma il tempo. Però anche dedicarsi a una sola isola, spesso si inizia da Oahu, dove c'è la capitale, Onolulu, è un'ottima scelta. Le Hawaii rappresentano la terra più lontana da qualsiasi altra terra emersa, in mezzo allocema Pacifico. Basti pensare che per arrivare in California occorrono quasi 4.000 km, per Tokyo quasi 6.200 e altri 4.400 e un po' di più per arrivare in Polinese francese a Tahiti. Questo ha fatto sì che per molto tempo gli Hawaii vivessero in uno splendido isolamento, fino a quando poi arrivarono gli occidentali nel 1778. Il primo fu il glorioso Capitano Cook che tra l'altro trovò la morte proprio qui nelle isole Hawaii. Oggi arrivare è ancora abbastanza macchinoso, il viaggio è molto lungo dall'Italia, prevede sempre uno o due scali negli Stati Uniti, generalmente San Francisco o Chicago, ma molto spesso si può fare il giro al contrario e arrivare in Giappone, magari arrivare qui poi da Tokyo. Contattate in Geo Diaticus per qualsiasi informazione legata alle Hawaii, che tra l'altro rappresentano il cinquantesimo e ultimo stato degli Stati Uniti d'America, la cosa avvenne il 21 agosto del 1959. Soltanto dagli anni Sessanta in poi le Hawaii divennero meta di turismo di massa per tanti americani, anche grazie alla riduzione dei tempi di volo dalla costa occidentale degli Stati Uniti, infatti il tempo di volo arrivò a 4 ore e mezza circa. Quindi le rese accessibili, poi anche economicamente perché fiorirono hotel a dismisura. Quindi restiamo a disposizione per la spiegazione che riguarda le Hawaii, per qualsiasi altro posto nel mondo. Enjoy Viaticus, sempre qui con voi e poi il consiglio è quello di vivere al massimo le esperienze locali, venire qui in spiaggia, Waikiki Beach è una delle più famose del mondo, ma non solo, e poi magari mangiare cibo locale, per esempio i poke che vanno tanto di moda anche da noi, quindi sicuramente non avrete che l'imbarazzo della scelta. Buon appetito e a presto!